Rassegna stampa di lunedì 14 giugno, ben ritrovati cari telespettatori, buon inizio settimana a tutti voi, sono le 7 in diretta, siamo sul canale 17 per sfogliare i giornali del lunedì con le notizie più importanti, con gli inserti sportivi perché c'è ancora lo sport che comunque tiene banco, con tutto quello che gira intorno, ovviamente c'è anche l'Italia, ma di questo ovviamente noi essendo una rassegna stampa locale insomma non ne tratteremo, non ne parleremo. Iniziamo però con il santo, il santo di oggi lo vediamo subito, oggi è San Proto, il sole è sorto alle 5.26, tramonterà alle 20.56, adesso vediamo subito il tempo. Beh questa immagine di trebimeteo.com ci spiega subito a colpo d'occhio che cosa ci attende nei prossimi giorni, nei prossimi giorni con questa bolla così calda, così rosso, incandescente, ci aspetta un caldo africano anche con improvvisi temporali insomma. C'è anche molta afa, picchi di oltre 34 gradi centigradi, questa è un po' la situazione della settimana che ci attende. Intanto sempre dando un'occhiata invece nel particolare alla nostra regione, la nostra regione oggi avrà una giornata di stampo assolutamente estivo, guardate il pomeriggio si presenterà con il sole splendente ovunque, ma c'è poco da dire anche per la giornata di domani, guardate che bello. E allora salutiamo anche tutti i turisti eventualmente, coloro che sono già qui nella nostra regione, in questa splendida regione e stanno magari godendosi qualche giorno di vacanza. Li salutiamo e auguriamo a tutti un buon soggiorno. Noi intanto andiamo a vedere i giornali. Cominciamo dal resto del Calino di Pesaro. Vaccini nelle aziende, titolo d'apertura, si comincia accreditati dall'Asur, gli hub, cioè i centri vaccinali per BS e Gruppo Vitri, sono due grandi aziende, che hanno 4.000 dipendenti. Entro la settimana via alle iniezioni. A centro pagina invece il minuto di silenzio in ricordo di Fiorenzio Troisi, nella foto piccola la commozione del figlio Lorenzo, la partita più bella in ricordo di papà, il figlio della gente scomparso, segna uno spettacolare touchdown e si commuove. Poi c'è la storia di una fanese che ha anzi un gatto che pensava morto, morto in strada, spende 120 euro per cremarlo, poi però scopre che è vivo, il suo è vivo, e quindi racconta al giornale un po' la sua vicenda, la sua storia. Acquaroli è solo un nome, comanda Ciccioli, l'intervista a Mastro Vincenzo del Partito Democratico, poi sotto Delfino, parliamo di basket, altra chance, ora resta con noi, vuole l'appello di Costa Fosso, che spettacolo, la Serie D è più vicina, eccellenza battuto l'atletico Ascoli. Andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico, mare si scatena la bebe in movida, gli albergatori di Viale Trieste a Pesaro, chiedono un incontro con comune e vigili, presidio fisso la sera, questo chiedono per scongiurare questi ragazzini che se le danno di santa ragione, così poi senza neanche tanti motivi. Le comitive si attardano ben oltre il coperfuoco, quindi fuggi fuggi di 200 ragazzini all'arrivo della polizia. Centropagina Street Art, contro gli imbrattatori, si parte dal sottopasso di via Lamarca. E poi manovre a Palazzo, il Palazzo è quello della Regione, in Regione è partito il waltzer dei dirigenti, e sotto invece la Confcommercio di Fano, contratti regolari, non c'è chi lavora, a Lido e Sassonia scattano i ticket per parcheggiare, e poi a Cattolica il genio della nautica Ferretti apre le porte del suo museo unico, ma c'è anche la cronaca qui in prima pagina, l'abbraccio sexy e poi gli ruba tutti i soldi, vittime a un pensionato di piazzale Lazzarini, le forze dell'ordine invitano a stare attenti. La VL prova a confermare Carlos Delfino che continua. E allora cominciamo da qua, cominciamo da questo gatto, gatto Felix, l'amato e ridivivo felino della signora Fanese che giustamente il giornalista dice dovrebbe chiamarsi più che Felix Lazzaro perché è risuscitato, una donna ha speso 120 euro per tumulare le ceneri che appartenevano a un altro feniglino evidentemente, il suo animale torna a casa vivo e vegeto. Ora non sto a raccontarvi la storia, ovviamente per chi la vuole leggere la troverete nell'edizione di oggi del resto del calino in edicola. E allora io vi dico soltanto che a un certo punto questo gatto che ha ricevuto tanto di funerale, tra virgolette, è un gattone di 8 chili con le zampe bianche e il pelo color rosso e due occhioni azzurrissimi, beh insomma dopo averlo pianto a dirotto per qualche giorno è stato ritrovato in giardino. Porta il suo cane invece Maremmano a fare toilette ma l'animale fugge via, sono stati chiamati i carabinieri. Un'altra notizia che c'è sul giornale che riguarda il mondo degli animali, aveva portato questo cane Maremmano a fare insomma la toilette in un negozio specializzato in strada adriatica nella zona di Cattabriga e il problema è che quando è tornato a riprenderlo il commesso gli ha detto mi dispiace, gli ha detto il negoziante ma il suo cane ci è scappato e non sappiamo dove sia finito. Ecco, tanto così per... Così. L'abbraccio della donna lo lascia senza un soldo. Attenzione ai furti con destrezza sul Corriere Adriatico di oggi. Pensionato derubato in piazzale Lazzarini. Siamo a Pesaro. Soltanto qualche giorno, anzi il giorno prima, un'altra donna di 42 anni aveva promesso una prestazione sessuale ad un cinquantenne invalido e dopo una prima effusione, scrive Luigi Benelli sul giornale, gli aveva rubato il portafoglio. La donna però era stata subito individuata e arrestata. Dunque, attenzione perché in questi giorni pare che ci sia insomma questa moda che non esce mai fuori di moda. Cioè non va mai fuori moda. C'è sempre. Ogni anno, quando arriva l'estate, i primi caldi, i primi calori. c'è sempre qualcuno che pensa di sbarcare il lunario truffando gli anziani in questo modo qua. Con la scusa di fare qualche giochetto. Metà dei marchigiani, qui apriamo la pagina invece del Corriere Adriatico che riguarda il vaccino e la situazione pandemica. Metà dei marchigiani hanno la prima dose, il vaccino a 753 mila persone. L'assessore Saltamartini dice adesso andiamo avanti soprattutto con Pfizer e Moderna. Mercoledì il confronto con la conferenza delle regioni per chiarire soprattutto i nodi su Astra. Dunque, la popolazione vaccinabile è di circa un milione e duecentocinquanta marchigiani. Questo lo ricorda l'assessore alla sanità. Il traguardo è arrivato nella giornata di ieri dopo un sabato cosiddetto considerato anomalo dal punto di vista dell'organizzazione vaccinale con le prenotazioni per il richiamo di AstraZeneca trasformati immediatamente in seconde dosi con Pfizer. La regione Marche si è adeguata dalla sera di venerdì scorso con un SMS diretto a tutti i dirigenti Asur specifico all'assessore ma non tutti i governatori hanno seguito la linea dettata dal governo. Tanto che ieri sia il Premier Draghi sia il Ministro Speranza hanno ribadito alle regioni di allinearsi ai piani nazionali. Il CTS ha lavorato molti giorni su come proseguire questa campagna di vaccinazione. Chiaramente sull'ipotesi del richiamo bis dopo il cambio di corsa variante indiana ancora niente quarantena per chi viene dall'Inghilterra. L'Inghilterra in queste settimane sta riscontrando un aumento di casi e quindi comincia a essere un problema. Il 21 di giugno aveva stabilito la giornata del ritorno alla normalità una festa che probabilmente verrà slittata slitterà di qualche settimana proprio per l'aumento dei casi derivanti da questa variante indiana. crescono invece nelle Marche i borghi covid free sono 79 in tutta la regione frena la provincia di Ascoli nel Maceratese e nel Fermano in totale 34 comuni mentre nel Pesarese sono 22 intanto i dati giornalieri comunicati dalla regione nessun decesso ieri è il terzo giorno consecutivo ricoveri in calo i pazienti positivi sono 61 e 22 i nuovi casi testati Vitri EBS dal Carlino di oggi pronti gli hub vaccinali entro questa settimana si parte con le somministrazioni le due aziende contano 4.000 dipendenti c'è posto anche per i parenti quindi in settimana iniziano a partire le aziende della provincia con le vaccinazioni ovviamente abbiamo visto insomma probabilmente a fare queste vaccinazioni in aziende saranno soltanto quelle grandi quelle che hanno grandi numeri che vogliono assicurarsi che i propri dipendenti siano coperti per evitare poi in futuro anche eventuali focolai e quant'altro quindi ci sta che le grandi aziende marchigiane facciano una cosa del genere mentre si sono tirate indietro tutte quelle un po' medio piccole che inizialmente avevano dato il loro consenso anche perché pensavano di dare una mano allo Stato ma lo Stato poi tutto sommato sulla questione dei vaccini dobbiamo dire è andata più che bene insomma sta funzionando e ha funzionato per ora tutto egregiamente la movida invece dei ragazzini si scatena sul lungomare qua siamo a Pesaro mettiamogli un freno Pedini che gestisce l'hotel Napoleon chiede un incontro con i vigili e il comune le aree pedonali sono quelle dove la sera si concentra l'afflusso di gente e dunque c'è questo problema che è un problema che non riguarda soltanto Pesaro riguarda un po' tutta l'Italia e immagino anche un po' il resto il resto del mondo insomma dove molti giovani molti giovani si sfogano tra virgolette si sfogano così intanto Alabaia a sosta con il ticket ma il confronto non c'è il prossimo fine settimana scatterà la sosta a pagamento solo nel fine settimana nell'area parcheggio del Campo di Marte a Baia Flaminia che sarà gestita da Pesaro Parcheggi la tariffa per la sosta nella zona Campo di Marte via Varsavia sarà per la prima ora di 1,05 euro ed è praticamente equiparata agli altri ticket degli stalli blu per le ore successive invece di 1,25 euro e la sosta minima sarà di 30 minuti per un costo di 30 centavigli ora anche sulla pagina 7 qua del Corriere la notte piccola dei giovanissimi fuggi fuggia all'arrivo della polizia verrebbe da dire scene di ordinaria ordinaria serata perché ormai è diventato un fatto che si ripete ogni volta 200 persone che stazionavano in Viale Trieste per ben oltre il coprifuoco quindi in attesa che questo coprifuoco venga eliminato del tutto a partire dalla prossima settimana intanto c'è comunque a mezzanotte e va rispettato evidentemente i giovani fanno un po' fatica e quindi appena vedono una macchina della polizia fuggi fuggi generale da focare a sottomonte spiagge libere con servizi un modo per evitare gli assembramenti anche le spiagge libere sono sicure e pulite per il secondo anno consecutivo a Pesero poi fare pulizie questa è una notizia che troverete a pagina 16 del Corriere di questa mattina fare pulizie per 1200 euro netti al mese il no degli over 50 altro che salari bassi parla Varotti della Confcommercio che dice carenza di personale in tutta Italia i contratti farlocchi sono eccezioni da eliminare è vero che nel settore del turismo e in quello della ristorazione manca il personale non è vero che questo dipende dai bassi salari proposti o da proposte di assunzione irregolare lo afferma Varotti direttore di Confcommercio Marche Nord dopo le polemiche e le tante segnalazioni pervenute all'associazione gli interventi delle organizzazioni sindacali sulla stampa e di qualche movimento politico sui social il problema esiste dice Varotti ed è presente in tutta Italia nella nostra provincia da Gabice Mare fino a tutto il resto del settore del turismo tutti imprenditori ci hanno segnalato la mancanza di personale prevalentemente stagionale e non si parla solo di personale qualificato come cuochi aiuto cuochi pizzaioli camerieri ma anche di lavapiatti addetti alle pulizie oppure alle camere esiste una reale difficoltà di riperirlo nonostante l'applicazione dei salari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da Confcommercio con i sindacati quindi giustamente come dice Varotti può essere da qualche parte che ci sia qualcuno che faccia il furbo che magari assume il nero o che insomma paga sotto banco in qualche modo ci può essere c'è sempre stato e sempre ci sarà ma in linea di massima gli stipendi che vengono proposti i contratti che vengono proposti sono quelli previsti dal contratto nazionale di lavoro quindi resta comunque la mancanza di voglia di lavorare e questo è un dato di fatto rispetto a chi invece dice no io non ci vado perché non ho il contratto ma figuriamoci allora lavoro invece cuore integrazione dalla Guinea a Fano qui c'è una storia che viene raccontata sul giornale di questa mattina di lavoro integrazione matrimonio dove qua vedete Maurizio Calderigi che è titolare del ristorante La Perla un ristorante che si trova sul lungomare di Fano in una foto scattata durante una festa di matrimonio di queste due persone che si sono appunto sposate qui c'è anche la moglie di Maurizio Calderigi ecco questa coppia si è sposata e ha avuto un aiuto anche da Calderigi appunto sono due persone che lavorano nel suo ristorante una storia di integrazione una storia di rispetto e di voglia di lavorare c'è scritto lì allora pagina 6 del resto del Carlino Acquaroli qui c'è un'intervista invece a Antonio Mastrovincenzo del Partito Democratico che spara a zero su Acquaroli Acquaroli impercettibile lo definisce ciccioli dalla linea il Presidente è il coordinatore nominale di una giunta che non decide nulla quanti errori poi dice sull'emergenza Mastrovincenzo è consigliere del PD alza la voce contro la giunta di centrodestra e il suo muoversi felpato in questa estate di fuoriuscita della pandemia e poi dice un po' la sua insomma i ritardi della giunta ci hanno messi in coda zona bianca per ultimi tra le regioni la giunta di destra è partita malissimo nonostante abbia confermato tutti i dirigenti che c'erano alla guida della regione i buoni risultati ottenuti da Ceriscioli contro la prima ondata si sono piano piano dispersi nella convinzione che loro potevano fare di più e invece hanno fatto secondo Mastrovincenzo soltanto peggio parcheggio al mare di Fano parcheggio al mare da oggi si paga mappa degli stalli blu ed eroghe Lido e Sassonia tariffe da 60 centesimi per mezz'ora a 10 euro al giorno previsto anche un abbonamento centro estivi centro estivi ventaglio di proposte più ampio operativo anche il campus dell'opera Donorione per la fascia 11-16 anni da Urbino invece una moto contro un trattore un centrauro è finito in ospedale un esodo continuo di auto verso la costa adriatica un serpentone di moto interminabile in particolar modo verso Bocca Serriola ma la splendida mattinata è stata rovinata da quasi dal quasi immancabile incidente in cui viene coinvolta una grossa due ruote ora io l'ho già detto non ho paura di ridirlo perché è un dato di fatto anche ieri ero in macchina e una moto è sfrecciata passando a 10 centimetri dallo specchietto retrovisore della mia automobile a tutta velocità e non solo davanti a ma dietro di me c'era un piccolo furgone un piccolo camion a lui è andato ancora più vicino tant'è che ci siamo guardati nello specchietto io il conducente di dietro per dire ma questo è matto una moto che non vi dico come andava e non vi dico come faceva queste strade dell'entroterra pesarese nelle parti di San Costanzo una cosa da non credere quindi prima o poi qualcuno poi ci lascia le penne ma voglio dire non dipende certamente dalla strada ma da come uno guida quindi che dire colonnine elettriche Fano è nel futuro questo è l'articolo che invece è sul resto del Carlino sempre la pagina di Fano il sindaco Seri si è iniziato dice un percorso con Enel X a favore di chi sceglie la mobilità ecologica e quindi è in corso a Fano l'installazione da parte di Enel di 10 colonne per la ricarica dei veicoli elettrici all'interno del perimetro cittadino una richiesta che era già stata sollevata da chi appunto possiede queste auto elettriche queste auto elettriche cominciano a essere sempre più numerose e quindi c'è necessità anche di più punti per la ricarica Viale Trieste di nuovo a Pesero tutto pedonale sogno svanito era la svolta abbiamo perso l'occasione dieci anni fa il Partito Democratico si tira indietro dal momento dell'approvazione del progetto Biancani rievoca il modello era Riccione ora le lanterne i soldi c'erano ma la città non ci seguì dice il consigliere regionale Biancani erano previsti centinaia di box poi sotto spiagge libere attrezzate ok però servono bandi più lunghi bandi per la gestione ovviamente ma a Pesero non c'è il profumo di vacanza Fabrizio Oliva presidente degli albergatori chiede al comune il coraggio delle scelte qui il turismo è visto come l'ultima cosa la differenza qui la fotografia le due fotografie che pubblica il Carlino per far notare un po' la differenza tra le lanterne l'ultima trovata per Viale Trieste e a fianco il lungomare di Rimini c'è differenza sì effettivamente si nota si vede a partire appunto dal verde e non solo dal verde ma anche dall'illuminazione vedete con questi con questi lampioni moderni poi c'è la ruota vabbè panoramica che fa un po' turismo per non sparire si deve proiettare una parte della città verso la ricettività va bene allora lavori stagionali sottopagati anche qui sul resto del Carlino c'è l'attacco di Varotti della Confcommercio una favola molti puntano ai sussidi c'è la solita storia molti al posto di lavorare preferiscono prendere il reddito di cittadinanza è una storiella che ormai si sente ripetere più volte lo sfruttamento c'è ma solo in casi rari e che tanti e che tanti non accettano sacrifici questa è la realtà questa è la verità anche perché oggi prendere una persona così cosiddetta in nero con tutte le possibilità che hanno poi le persone di comunicare con i social e quant'altro è molto rischioso di fatto nessuno pochi lo fanno perché comunque è vero che uno ha bisogno di lavorare sta zitto e pur di guadagnare accetta anche un contratto che non c'è che non esiste però è molto più difficile molto più rischioso per un imprenditore i controlli ci sono ma ci sono anche le possibilità per il lavoratore in nero di fare brutta figura per non dire altro colpo di sonno alla guida e fa strike siamo a Senigallia un 31enne ha perso il controllo e ha centrato tre auto in sosta è stato multato poi un ragazzo ubriaco al volante ieri mattina i militari sono intervenuti in via Raffaello Sanzio per ricostruire la dinamica di un incidente che ha coinvolto quattro veicoli mentre la pagina della Corriere di Senigallia sui turisti beffati dalle case trappola incubo vacanza per due famiglie ora Senigallia Senigallia ha l'abbonamento con queste truffe nel senso che ogni anno di questo periodo si parla sempre di turisti beffati da queste case inesistenti persone che non so da Milano da fuori regione scegliono delle case a Senigallia pagano pagano caparre pagano e tutto poi arrivano lì e scoprono che cosa che questa casa a Senigallia non esiste oppure addirittura è abitata da qualcun altro e quando suona il campanello dice siamo noi siamo quelli che abbiamo affittato a questa casa dico no guardi che questa casa io ci abito quindi è impossibile e ce ne sono tante di queste storie che racconta puntualmente il Corriere ogni anno i truffatori cambiano strategia però vedete propongono abitazioni vere ma non in affitto e spariscono con la caparra colpo di sonno sbanda e centra tre auto in sosta giovani in giro dopo le 24 in 5 sono stati moltati dai carabinieri ubriaco alla guida finisce nei guai Valentino Rossi cena e tuffi a Porto Novo il campione di MotoGP sabato sera da Giacchetti e ieri con il suo yacht nella Baia di Porto Novo da Bonetti relaxa il sole invece per l'attrice Alice Pagani l'attrice marchigiana originaria di Castel di Lama la vedete in questa fotografia qua indossava un costume rosso e ha fatto anche il bagno per infrescarsi ma pensa un po' difficile non notarla dopo il successo della serie Baby di Andrea De Sica mentre qua Valentino Rossi è con Enzio Ezio scusate Giacchetti che racconta appunto come Valentino sia un habitué in qualche modo anche il Correa Adriatico ne parla sulla pagina di Cattolica e di Gabice Valentino la prima uscita sul maxi yacht è sotto il Conero il campione di Tavuglia avvistato con la fidanzata sul suo nuovo San Lorenzo è un 27 metri da 8 milioni di euro è una chiaramente uno yacht che non è passato inosservato poi le fotografie di rito pubblicate su Instagram hanno pubblicato alcune storie che hanno dato subito indizi sulla gita fuori porta dedicando alcune immagini spettacolari della barca della spiaggia e delle rocche delle due sorelle appunto di Sirolo e questa è un po' la notizia che è un po' relegata nella pagina di Sport ma neanche di Sport no diciamo è nella pagina nelle pagine interne dei quotidiani per quanto riguarda lo sport non giocato ovviamente perché il campionato ormai è finito per l'Alma e adesso si spera solo in un ripescaggio l'Alma Juve fanno due imprenditori per aiutare Granata questo è il Carlino chi entra in società questa è la domanda che si pone e che si pongono anche i tifosi e soprattutto a quali condizioni entrano questi imprenditori sono i principali interrogativi che tormentano i tifosi in questi ultimi giorni lo sforzo economico sostenuto da solo alla guida della società di Via Toscanini da parte dell'attuale presidente Enrico Fattuai-Fidani evidentemente questo sforzo non è ripetibile perché comunque non ci sono stati gli incassi che già di per sé sono bassi gli incassi allo Stadio Mancini insomma in piena pandemia è difficile anche gestire squadre che comunque costano perché mantenere una squadra di calcio costa e allora vedremo comunque come andrà a finire e se la mediazione del sindaco di Fano Massimo Seri porterà dei risultati intanto noi ci fermiamo qui 7.27 per chi ci segue in diretta tra poco in collegamento da Loreto dalla Santa Casa avremo e trasmetteremo la Santa Messa questa sera dopo le 20.30 dopo il TGO che la notizia vi ricordo che avremo uno speciale sui mercoledì degli artisti che è un'iniziativa che si svolgerà a Fano ogni mercoledì dove in alcuni punti della città in alcuni angoli della città in alcuni bar ristoranti della città ci sarà della musica e quindi ne parleremo questa sera in modo più diffuso e dettagliato con gli organizzatori intanto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una serena e piacevole giornata grazie a tutti